Non è tanto l'acqua il pericolo o l'ambiente acquatico in generale il pericolo, anche se necessariamente viene considerato un ambiente ostile. I pericoli in realtà sono nel comportamento, il famoso fattore umano. Ed è proprio partendo da questo assunto che la Misericordia di Arezzo ha deciso di divulgare le informazioni più corrette in tema di prevenzione. Lo ha fatto con un decallogo di semplici suggerimenti su cosa fare e specialmente cosa evitare nel rapporto con tutte le acque di balniazione. Gli incidenti in acqua infatti sono più di 1000 all'anno di cui 400 mortali solamente in Italia, con prevalenza tra le vittime e bambini, massima attenzione e dunque soprattutto nei loro riguardi. Diciamo che è la prima regola, la sorveglianza del minore con l'acqua è una sorveglianza, una responsabilità in vigilandi, si dice, cioè deve essere continuamente a vista e continuamente significa evitare assolutamente distrazioni anche temporanee come può essere quello di guardare il cellulare e non lasciare, soprattutto non lasciare punti di acqua incustoditi anche intorno a casa, perché ogni specchio d'acqua incustodito naturalmente è un'attrazione formidabile per la curiosità dei bambini e purtroppo la tragedia è dietro l'angolo in questi casi. Tra i consigli della misericordia c'è poi quello di valutare bene le proprie capacità natatorie e il rapporto alle condizioni ambientali e non trovarsi mai soli in acqua, non entrare poi se non in perfette condizioni di salute, non forzare le proprie prestazioni, non arrampicarsi sulle scogliere ed ancora nuotare solamente nelle aree dedicate ai bagnanti, attendere dopo i passi ed infine prestare massima attenzione allo sbalzo termico tra fuori e dentro l'acqua. Soprattutto d'estate capita di essere accaldati al sole, in fase digestiva eccetera, in queste situazioni tuffarsi in acqua all'improvviso senza acclimatarsi progressivamente è pericoloso, perché si può avere un malore particolare che si chiama sincope della idrocuzione, che è anche molto difficile da soccorrere. La misericordia infine ricorda che in caso di necessità è meglio evitare di entrare in acqua, ma piuttosto chiedere aiuto inoltrando una buona chiamata di soccorso al 112. Che poi provvede immediatamente, già in base alla descrizione del fatto che l'incidente sta avvenendo in acqua, attiva tutta una serie di procedure, quindi non si perde un attimo in realtà nel descrivere quello che sta succedendo. Per questo dico una buona chiamata di soccorso. Naturalmente in questi incontri insegniamo anche questo. Questo più che soccorrere in acqua, perché il soccorso in acqua è pertinenza di figure professionali qualificate, che sono gli assistenti di salvamento. Statisticamente il rischio per chi soccorre in acqua è maggiore rispetto a chi viene soccorso.